Posso intervenire l'Onorevole Baroni, ne ha facoltà. Prego. Grazie, Presidente. Allora, signor Presidente, oggi siamo qui per salvare veramente Roma dalla svendita bis, dal vostro SalvaRoma, che si dovrebbe chiamare SvendiRomaBis, che pone dei soprusi su tutti quei servizi, dall'acqua ai trasporti ai rifiuti, proprio tutti quei punti decisi da 27 milioni di cittadini che avevano detto di farli tornare pubblici e partecipati e non delle SPA divoratrici e devastatrici attraverso abili giochi d'azzardo e soprusi finanziari. Quei 27 milioni di cittadini sono per un'economia pubblica e partecipata che possa essere lontana dal profitto. Un profitto generato da nomi che abbiamo incominciato a conoscere e che abbiamo il coraggio di dire. Caltagirone, Tonelli, Tagliaferri, eccetera. Non ci fermeremo qui, perché stiamo preparando un elenco. Semplicemente, con chiarezza, vogliamo comunicare e cerchiamo di vedere quello che minaccia il bene della collettività. Salva Roma bis, questo decreto legge cade per l'ennesima volta dentro la zona grigia della decretazione d'urgenza. Come voi tutti sapete, il decreto legge è un atto a vette forza di legge che il Governo accoglie in situazioni singolari di bisogno e di urgenza, come recita l'articolo 77 della Costituzione italiana, dove si rappresentano le forme di limiti entro i quali il Governo ha facoltà di emanare norme giuridiche. Quindi la Costituzione italiana pone dei limiti, ma altrettanti vincoli sono stati espressi dalla sentenza numero 360 del 1996 della Corte Costituzionale, che ha collocato rigide limitazioni alla consuetudine del Governo di dipendere dal decreto legge quale strumento normativo e di prendere il posto, una volta fondamentale, che fu del Parlamento. Tuttavia non stupisce più nessuno che il Governo si arroghi il diritto di sostituirsi al Parlamento. Ciò, tra l'altro, in palese contrasto con il principio della separazione dei poteri. Ma d'altronde, cosa ormai ci deve stupire? In questo mese siamo vittime di una sitcom con una happy family tutta italiana, dove un sindaco del PD, Menuelle, fa fuori il suo stesso membro di partito. riesuma con un fulmine illegittimo i pezzi di carne morta del Frankenstein italiano pluricondannato e diventa Presidente del Consiglio snaturando ogni qualforma legislativa del Parlamento. È il nuovo miracolo italiano. Abbiamo Renzi come Presidente del Consiglio e, in questo caso, abbiamo ancora un miracolo delle lobby. Infatti, torniamo alla Corte Costituzionale, che ha questo atto della Camera DL 151 2013, perché non tutti sanno che la Corte Costituzionale, con la sentenza del 22 del 2012, ha osservato che l'inserimento di norme eterogenee rispetto all'oggetto alle finalità del decreto spezza il legame logico-giuridico tra la valutazione fatta dal Governo dell'urgenza del provvedere e i provvedimenti provvisori con forza di legge. Sempre la Corte Costituzionale ha posto come limito al divieto di reiterazione la individuazione di nuovi motivi di necessità e d'urgenza. In verità, ciò che inficia il decreto Salva Roma è appunto la reiterazione di norme contenute in altri decreti, legge decaduti. Ricorda tutte le disposizioni sul finanziamento di Roma Capitale, le misure in materia di infrastruttura e trasporto, ANAS, servizi ferroviari, Expo 2015 e persino sulle province. L'unica novità inserita riguarda le misure per la Regione Sardegna in ordine alla ripresa dei versamenti sospesi per i contribuenti colpiti dall'alluvione dello scorso mese di novembre 2013. È possibile non comprendere che la reiterazione e l'eterogeneità dei contenuti privano di valore il carattere straordinario dei requisiti della necessità ed urgenza? Questa modalità operativa ha alterato gli equilibri istituzionali, ha alterato la stessa forma di Governo, ma soprattutto continua a minare il campo della funzione legislativa del Parlamento. Mi invito pertanto ad ammettere, non a noi, ma ai cittadini, che di necessitario ed urgente in questo momento non c'è di sicuro l'Expo 2015. Di necessario ed urgente c'è una questione molto importante da combattere. La corruzione è tutto quello che può girare intorno a questi decreti. Nel mio intervento dello scorso 22 dicembre 2013 vi ricordavo quanto segue. Dopo l'Expo, i terreni agricoli e circostanti su cui verrà realizzato l'evento verranno in buona parte cementificati. Gli appalti pubblici in Italia costano mediamente il 40% in più della media europea a causa della corruzione. In Italia solo i sovraccosti della pubblica amministrazione vengono letteralmente bruciati in corruzione 60 miliardi, il che significa che la metà del volume e di tutto il malaffare dell'Unione Europea ossia 120 miliardi di euro è in Italia. Ma misteriosamente questa non è mai e l'abbiamo sentito anche dai discorsi del Presidente del Consiglio insediato Sirenzi la priorità del Governo né per i mass media di regime in Italia. Quindi mai si parla della corruzione. Quindi l'urgenza è di nuovo informazione. Siamo al settantesimo posto. Quindi l'urgenza è nella lotta alla corruzione. Siamo al settantesimo posto. Ma torniamo all'atto camera del DL 151 2013. Noi del Movimento 5 Stelle abbiamo impegnato il Governo, era lo scorso dicembre, a prendere misure a stimolare il raggiungimento di un'efficiente politica della connessione ferroviaria a livello regionale, e strutture strategiche fondamentali per lo sviluppo economico, turistico e territoriale dell'Italia e della Sicilia, avviando operazioni di programmazioni e ricerca di risorse economiche volte al rafforzamento della rete su ferro, al fine di assicurare la ripresa dei lavori di raddoppio delle tratte a binario unico, sospesi da anni, nonché l'avvio della realizzazione di nuovi raddoppi lungo le principali direttrici della Sicilia e delle zone sottoprogrammate dell'Italia. Il Governo si è altresì impegnato a procedere ad una puntuale ricognizione sullo stato dei lavori di ammodernamento e adeguamento delle infrastrutture della rete ferroviaria siciliana ed italiana. Ma qui è la TAV ciò che conta. Così le risorse economiche per le piccole opere sfumano via. Basterebbe una moltitudine di piccole opere attive per generare un'immensa opera di risanamento del nostro Paese. Al contrario, ci troviamo di nuovo al provvedimento su cui si autorizza il Ministero dell'Economia e delle Finanze a corrispondere a Trinitalia le somme previste dal bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2013. Mi piace che daremo circa 111 milioni a chi pianifica soprattutto per applicare strategie industriali che, in passato, non hanno fatto altro che sopprimere molti treni a lunga percorrenza, riducendo nettamente le corse regionali e relegando la Sicilia ad un esilio geografico di non indifferente importanza. Qui c'è un comportamento che è una bella rappresentazione piatta. Noi, d'altro canto, ambiamo a ben altro, ad esempio a far valere il principio di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, sancito anche dalla Costituzione della Repubblica italiana e soprattutto per far contenere i costi gravanti sull'amministrazione per la gestione delle procedure di reclutamento, perché noi, in Italia, vorremmo restituirla un attimo alle proprie condizioni iniziali, la sua storia. 28. Questo è il ventottesimo provvedimento d'urgenza eterogeneo ed incoerente che il Governo Letta o Letta rimpastato a destra si accinge ad approvare dal Salva Roma al Salva Roma Bis. Abbiamo avuto modo di leggere una vasta gamma di emendamenti bizzarri, personalistici, di parlamentari che mirano a coltivare i propri interessi, ad alimentare con i soldi pubblici le proprie clientele, come una sorta di grande ritorno delle mance. Si tratta di emendamenti che, seppur rientrano nella giusta visione di migliorare il trasporto e il territorio, sono molto, forse, troppo localistici. Tali richieste possono creare discriminazione da territorio a territorio. La messa in sicurezza delle scuole deve essere a livello nazionale, così come il risanamento del territorio che ha subito danni idrogeologici. Non possiamo continuare a fare differenze cittadini di serie A e serie B solo perché alcune zone hanno o non hanno parlamentari eletti. Credo che dibattere della questione degli enti locali non possa prescindere da ricordare che i numerosi scandali che hanno riguardato le amministrazioni pubbliche scaturiscono proprio da un sistema di finanziamenti a pioggia e di controlli quasi inesistenti, dalla totale mancanza di trasparenza non solo negli enti locali, ma in tutte le pubbliche di amministrazione a partire dal Parlamento. Vedete, per noi parlare di trasparenza vuol dire dotare il cittadino di garanzie, ciò vuol dire non solo poter controllare l'operato di chi con i soldi pubblici amministra il Paese, ma anche puntare ad ottenere il massimo dell'efficienza a vantaggio del cittadino in termini di servizi da parte dell'amministrazione pubblica. A questo, per logica e per natura, avrebbe dovuto tendere questo provvedimento. persino la Convenzione ONU contro la corruzione ratificata dall'Italia fa espresso richiamo alla trasparenza, ma per l'Italia essere sanzionata e richiamata continuamente è diventata un'abitudine di cui vantarsi evidentemente per il Governo. C'è bisogno di trasparenza contro la corruzione. Abbiamo anche presentato un emendamento che prevedeva di inserire il controllo delle spese nei consigli regionali affinché la Corte dei Conti potesse controllare il rendiconto generale dell'Assemblea o dei consigli regionali, verificarne le spese, le entrate e se queste sono state effettivamente sostenute o percepite direttamente a monte e non a seguito di un giudizio penale. Addirittura si cerca di stravolgere quel poco di buono che si stava tentando di fare quello di realizzare una vera spending review permettendo ad amministrazioni, regioni, enti locali e organi costituzionali di recedere dai contratti. In una nota di lettura emerge la stessa ridefinizione del termine per l'esercizio del recesso del 30 giugno 2014. anziché il 31 dicembre 2014 unitamente all'obbligo di un preavviso di non meno di 180 giorni. Si traduce nel far salve di fatto le sole risoluzioni per cui risultino ad oggi già notificati da parte delle amministrazioni locatarie gli intenti di interruzione del rapporto di locazione. In definitiva tutti i fattori quelli innanzi considerati sembrano operare se non l'abrogazione dell'Istituto di certo una sorta di neutralizzazione della sua efficacia. Così una delle poche cose buone che si stava cercando di fare viene compromessa il provvedimento in esame adotta la logica della riparazione emergenziale con un'eterogenità senza puntare affatto alla programmazione e ad un'ipotesi di futuro e non c'è bisogno di andare alle maestre elementari per farlo. Si proferisce di norme riguardanti la dismissione di edifici pubblici di beni di tutti ma anche di azioni di bonifica fino ad entrare nella contabilizzazione dei bilanci di enti locali. Come nei decreti leggi che sono passati da queste parti si snatura al potere esecutivo del Parlamento quasi fosse un problema incurabile delle istituzioni. Basterebbe trovare una prevenzione di cura a questo problema incurabile. Basterebbe che la materia del decreto legge fosse omogenea come provvede il nostro dettato costituzionale. Allora il Parlamento si ritroverebbe a convertire un disegno di legge con una migliore determinazione. Anche qui il tutto ci appare con una continua presenza di proroga che sono l'espressione evidente dell'incapacità di fornire soluzioni di lungo respiro per risolvere problemi accidentali. Vi ricordo che nel 2008 come ci spiegò Causi lo scorso 22 dicembre fu creata la bad company e la good company al Comune di Roma per risolvere i problemi dei debiti di Roma e ho omesso di dire però il nostro collega Causi deputato del PD che fino a quel momento con l'arrivo di Alemanno quel buco che poi è stato richiesto a Berlusconi di sanare era stato creato dalle amministrazioni del centro-sinistra che aveva creato e che a sua volta usufruiva di ingenti di somme varate dal governo e dallo Stato per sopperire a tutte quelle difficoltà di cui parlava lo stesso Causi quindi dicevamo di esperti per le privatizzazioni di fama internazionale e qui non è un caso che mi fermo al deputato Causi perché tutti gli amministratori locali di Roma sanno che è considerato questi questi provvedimenti vengono considerati in una maniera per cui non possiamo rispondere che il Parlamento deve essere una sana deve essere da sano stimolo agli amministratori locali perché stiamo prendendo in giro i cittadini perché questi provvedimenti sono scritti da queste stesse lobby che noi stiamo lottando contro cui noi stiamo lottando come Movimento 5 Stelle quindi qui è una questione di prendersi delle responsabilità di voler fare un certo tipo di amministrazione di voler stare dalla parte del pubblico e non solo durante la campagna elettorale in cui poi dopo si creano le coalizioni con SEL e il PD per il bene comune e qui di bene comune non c'è assolutamente niente e non dalla parte del privato è qui che si continua a creare quindi la zona grigia infatti il PD ha fatto una potente campagna elettorale cercando di affermare che era stata dalla parte del pubblico come ha fatto nell'ultima campagna referendaria sull'acqua pubblica in cui uscito fuori dal cappello non si sa bene dove stava prima all'ultimo momento schierandosi a favore del referendum e ancora una volta disattende se stessa perché anche se in questo caso il Salva Roma bis è stato tra virgolette ammorbidito si prevedeva una potente privatizzazione per quanto riguarda i servizi ACEA il PD prese lo slogan della campagna referendaria un mese prima del voto del 12 e 13 giugno 2013 acqua bene comune lo adottarono per Italia bene comune ora come allora la coerenza del PD torna happy family gli esperti per le privatizzazioni di fama internazionale si muovono quindi nel mare magnum delle privatizzazioni perenni prima la mia collega ha citato la compagnia Suez con il rischio altissimo di adesione al lobbismo internazionale abbiamo così un fritto misto di molte questioni l'Expo 2015 dove potremmo cambiare lo slogan da nutrire al paese a nutrire gli amici in dettaglio misure economiche e finanziarie urgenti volte a favorire l'esecuzione delle opere dell'esposizione universale di Milano con gravi problemi economici e di pianificazione urbana che ricadranno nel tempo e sul territorio di Milano e del nostro paese a livello economico parliamo che l'Expo 2015 ha già assorbito un miliardo 468 milioni di euro distribuiti dal 2008 ad oggi e di un enorme consumo di suolo anche la Corte dei Conti si è espresso nel merito dell'acquisizione dei terreni sull'aspettativa del futuro aziendale e potremmo dire altro infine il problema degli appalti senza una vigilanza sulle procedure di affidamento oltre 1,5 miliardi di euro già citati troviamo che l'articolo 1,7 precisa che per l'anno 2013 ha attribuito al Comune di Milano un contributo di 25 milioni di euro a titolo di concorso di finanziamento delle spese per la realizzazione non sarebbe meglio indirizzare questa cifra Ministro Boschi verso servizi di primaria importanza non in un'esposizione partita già falimentare le promesse sono sempre le stesse lavoro ricchezza benefici per l'intera città ma la realtà è differente dal punto di vista lavorativo vedi articolo 1,8 adesso non so se è stato cambiato con il nuovo articolato si parla di assunzioni a tempo determinato fino al 2016 e ormai tutti gli italiani hanno capito che questi contratti a tempo determinato servono per favorire la logica delle clientele perché se io non vengo votato alla prossima tornata elettorale dice il vecchio politico navigato lei Ministro Boschi è troppo giovane per esserlo però potrebbe intuire insieme a me che è proprio lì che dobbiamo andare a colpire se vogliamo cambiare qualche cosa può darsi che non verrà rinnovata la commessa dice il vecchio politico navigato il tuo appalto non avrà la commessa e quindi come facciamo chiede il vecchio politico navigato mettiamoci d'accordo no noi non ci stiamo quindi instabilità lavorativa come modello da seguire per tutto il paese questo ancora è il vostro programma vero sul lato economico sappiamo che in Europa le esposizioni degli anni precedenti sono state un fallimento economico l'esempio è quello di Lisbona dinanzi a tale evidenza viene allora da chiedersi perché un paese estremato impoverito con costanti tagli alle risorse più essenziali come sanità e istruzioni un paese interessato in un debito pubblico senza precedenti storici un paese in cui per far quadrare i conti si continua ad esercitare una pressione fiscale ormai intollerabile per gran parte della popolazione riuscirà ad affrontare gli investimenti ingenti che un progetto come Expo 2015 richiede traendone un profitto reale senza incorrere nel pericolo di un ulteriore fallimento si ha la forte sensazione che si va avanti a tentoni dinanzi allo sfascello economico sociale e morale di questo paese il nostro esecutivo ha perso persino la più tenue velleità di poter mettere in atto riforme incisive non stiamo parlando di questo ovviamente stiamo parlando di quello che è appena stato fatto fuori condivise e soprattutto coraggiose non si ha uno sguardo rivolto al futuro non vengono messi in atto interventi di lungo periodo che mirino ad evitare il disesto idrogeologico che tutelino la salute e la vita delle persone in ogni sua forma si autorizza e si attua la cementificazione di immensi territori che poi devono essere riparati con provvedimenti tampone estremamente dispendiosi torniamo al concreto che in quanto tale a norma di legge secondo la Costituzione deve essere imprescindibilmente legato ad elementi di necessità e di urgenza ammesso che il titolo estremamente vago del provvedimento possa utilizzare l'individuazione di un nesso tra disposizioni tanto diverse non se ne scorge quindi come abbiamo detto la necessità e l'urgenza come se il buco lasciato dall'amministrazione Ale Magno di 860 milioni di euro fosse qualcosa di non prevedibile come se a un certo punto si sa che lo Stato deve andare a sopperire a questo tipo di amministrazione locale i comi 1 e 2 dell'articolo assicurano indennizi in relazione allo svolgimento di opere strategiche siamo davanti a disposizione che si era tentati di inserire in un altro testo e che ora si ritrovano nel decreto in esame queste misure urgenti di compensazione per le imprese danneggiate dai fatti dolosi legate alle proteste per la realizzazione della TAV sono state giustificate da esponenti del Governo con il rischio concreto di un'estesa delocalizzazione delle aziende con conseguente perdita di base imponibile che indirettamente si rifletterebbe in modo negativo sulle entrate degli enti territoriali continuiamo con queste menzogne mi scusi il termine volevo dire supercazzole però mi sono automoderato perché è entrato nell'idioma dell'istituzione cioè della logica in cui ci sono delle bugie che vengono vendute da anni e ancora pensiamo che i cittadini non se ne siano accorti quindi l'urgenza non dovrebbe riguardare le grandi opere ma una moltitudine di micro opere Ministro Boschi disseminate nel paese come la riqualificazione degli acquedotti senza la privatizzazione dell'acqua così come richiesto da 27 milioni di cittadini pensando di dare un lavoro a migliaia di cittadini artigiani e maestranze che sono alla base per il risanamento e il mantenimento conservativo dell'immensità che abbiamo in questo paese lo ribadisco parlo di immensità perché abbiamo essere dobbiamo essere in grado di attuare politiche che si siano in grado di agire e prospettare degli interventi di ampio respiro che vedano il futuro come una prospettiva di vita non a tempo determinato politiche che vadano dal territorio al cittadino per salvaguardare la stessa vita sociale e culturale del nostro paese invece qui dentro in questo cimitero sconsacrato stiamo diventando veramente schiavi di questo ritmo che non ci permette di analizzare a fondo i decreti legge si parla che questo decreto legge verrà ritirato a questo punto io mi immagino veramente metto in discussione la prima programmazione di questo governo perché non mi pare veramente che ci voglia una fine intelligenza per capire che noi ci saremmo opposti dovremo calendarizzare in aula dei decreti legge se proprio si vuole parlare dei decreti legge che ci permettano di lavorare seriamente e non del modo fino ad oggi voluto pensato e pervertitamente seguito perché questo decreto legge non era stato calendarizzato prima ma è stato calendarizzato ritirato ricalendarizzato con urgenza e adesso verrà di nuovo ritirato io veramente non ho parole vi lascio a voi la faccia nel provvedimento si evince che il governo stia usando i comuni per accogliere imposte da mettere a bilancio senza lasciare nulla per gli amministratori locali e tagliando in modo drastico i trasferimenti verso gli enti locali ricordo a tutti che nel 2009 e nel 2010 i comuni gestivano lici l'entrata un'entrata allora a beneficio dei soli comuni nel 2011 lici fu abolita nel 2012 venne introdotta l'IMU del cui gettito un'importante fetta spetta allo Stato nel 2012 veniva inoltrata introdotta la TARES per il 2013 senza dimenticarci anche della TARSU la logica pertanto è sempre la stessa quella di usare i comuni come già abbiamo visto il tentativo fatto con il gioco per quanto riguarda gli esercenti che utilizzano macchinari sul gioco d'azzardo che è quello di usare i comuni come cravattari dello Stato questo non mi sembra federalismo fiscale questo non mi sembra uno Stato che dà il buon esempio strangolando anche e soprattutto i comuni virtuosi continuiamo perché questo è un provvedimento impressionante presenta un contenuto vasto ed articolato recanto insieme di misure che incidono sulla finanza degli enti locali nonché specifici interventi in favore di alcuni territori vi sono disposizioni che prorogano regimi transitori in alcuni casi prorogano persino regimi transitori che fanno riferimento a norme che risultano abrogate nel corso dell'esame al Senato sono state persino introdotti al comma 3 del precedente esame al Senato al comma 3 le proroghe di tre termini deleghe in despregio dell'articolo 15 comma 2 lettera della legge del 23 agosto dell'88 numero 400 la quale vieta che il governo possa mediante decreto legge conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione siamo quindi al paradosso un governo che attraverso un decreto legge delega se stesso è come un malato che si fa la diagnosi e poi dopo si scrive la ricetta medica di proprio pugno è molto importante a questo punto fare una piccola parentesi perché da questo tipo di delega sappiamo scatturire tutta la materia che è relativa al gioco d'azzardo e che rappresenta un'enorme filiera di denaro perché di denaro stiamo parlando qui da cui lo Stato ha deciso in cui una zona grigia delle lobby non ben specificata di non attingere in maniera adeguata con annualità in cui a fronte di un aumento del giocato diminuisce invece ciò che lo Stato incassa quindi abbiamo un aumento del giocato e diminuisce ciò che lo Stato incassa questo lascio a lei Ministro Boschi eventuale possibilità di approfondire questo mistero della tassazione italiana vengono analizzati i trend da parte dei professionisti dei colletti bianchi in cui viene detto al governo di aumentare le tasse dei giochi che praticamente diminuiscono il giocato mentre nei casi in cui il gioco è in crescita viene chiesto al governo di diminuire quelle tasse quindi a voi vi permettono di far fare una bella figura perché vi dicono potete aumentare le tasse su questo giocato ma quel giocato lì è destinato ad andare sempre di più a diminuire il proprio raccolto questo è un vecchio gioco in cui praticamente voi potete cantarvela dicendo di aver aumentato le tasse sulle slot machine che ne so dello 0,4 di fatto però le slot machine sono in calo quelle in crescita sono i giochi online il poker online il casino online le videolotteri che sappiamo bene essere una sorta di slot machine 2.0 in cui poter far giocate da 10 euro a partita senza tempi minimi tra una giocata e l'altra in cui si inseriscono banconote che sono aumentate in maniera praticamente spropositata negli ultimi anni sappiamo bene quindi che ha tutte le informazioni perché quando noi andiamo a vedere le leggi le leggi sono estremamente ben articolate e sono chiuse mi scusi e sono chiuse dentro un sistema di scatole cinesi per cui noi sappiamo che non potremo intervenire per aumentare le leggi cioè il Parlamento non può intervenire per aumentare le leggi su i giochi online perché tutto materia su cui ha un potere assoluto e regale il governo tra l'altro domani avremo anche la delega l'articolo 14 della delega fiscale questo è stato già oggetto di diverse osservazioni salto questa parte così vi faccio andare esattamente io veramente su alcune cose che ho sottolineato questa sera non ho parole alcuni giochi molti giochi forse quasi tutti sono stati scoperti noi stiamo cercando le prove qui ci sono potenti fenomeni di dissimulazione dissimulare che vengono fatte le cose male dissimulare che vengono fatte le cose fuori termine dissimulare che vengono fatte le cose per interessi di alcuni di cui neanche voi siete coscienti voi credete che non abbiamo i numeri credete che non abbiamo le informazioni e proponete aumenti nelle tasche dei cittadini abbiamo scoperto che praticamente anche questa parte la salto perché sarà materia di altro mio intervento quindi sappiamo che la prossima mossa sarà mettere noi speriamo che la prossima mossa sarà appunto quello di iniziare con una proposta di legge in Parlamento perché dal punto di vista costituzionale se voi ritirerete o decadrà questo decreto dovrete comportarvi in questa maniera speriamo che in un settore e sui tutti i settori in cui noi vi abbiamo dato precedentemente dei lobbisti ci siano invece degli elementi che possano possano smentirci perché in questo momento anche su questo provvedimento ci sono ancora tutti gli elementi convergenti affinché noi reiteriamo questa accusa cioè quella di essere dalla parte dei lobbisti quindi guardatevi allo specchio ogni tanto perché i cittadini sono molto arrabbiati su questa cosa grazie ringrazio onorevole baroni a questo punto secondo le intese intercorse il seguito dell'esame del provvedimento è rinviato alla seduta di domani di domani app di domani